Cominciamo a guardare quello che in tutti questi anni una voce per Padre Pio ha fatto perché tante cose dobbiamo fare, appunto siamo qui stasera, ricordiamo il numero, il 45531 per costruire un ospedale di altissimo livello, ma guardate già le tantissime cose, miracoli che poi si concretizzano dice ma si possono fare cose apparentemente impossibili, si possono fare, una voce per Padre Pio le realizza case di accoglienza, orfanatrofi, appunto ospedali, allora visto che il tema è caldo e siamo pronti con una delle mille voci che hai nel tuo repertorio, a tale quale hai imitato tutti Non era stabilita questa, toccava a me Fammi il lancio del 45531 con una delle tue mille voci, vai Ma hai preso alla sprovvista, con una delle mie Felicità, 45531 la felicità Aspetta, non dà per corda, di tutti quelli che sai fare, proprio Albano mi devi imitare che ce l'ho, l'originale Non ci credo, ci sta Albano veramente E invece sì, sì, signore e signori ha una voce per Padre Pio, il maestro Albano Vieni via, vieni via Ma pensavo che era uno scherzo, pensavo No, c'è per davvero Veramente ci sta Albano Vattene